Mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto senza Ilva trasversalmente ai partiti né centrodestra né centrosinistra nel Movimento 5 Stelle perché oltre alla questione ambientale voglio la correttezza, la linearità, non amo certo la politica dei furbetti. Girando per la città avrete notato questo manifesto riguarda uno spettacolo teatrale di Fabiano Marti che si svolgerà il 17 di gennaio. Fabiano Marti come sapete è stato fino a circa un mese fa vice sindaco di Taranto e assessore alla cultura. Non credo che ritornerà ad amministrare la città perché l'amministrazione Melucci sarà spazzata via e d'altronde lui è un nominato assessore, non è mai stato neanche eletto in vita sua. Ora ha creato questo movimento Taranto Crea, vedremo. La cosa che però mi lascia molto perplesso e mi fa molto pensare è vedere su un manifesto di un evento comunque privato una sorta di patrocinio, di collaborazione del comune di Taranto. Ora per carità non sto mettendo in dubbio la legittimità, la liceità della cosa ma ritengo assolutamente inopportuno e non etico che l'amministrazione comunale di Taranto attraverso il suo logo ufficiale di fatto crei un ritorno di immagine anche politica ad una persona che in questa sede è artista ma è politico a tutti gli effetti perché Fabiano Marti è un politico attivo con Taranto Crea appunto a sostegno dell'ex sindaco Melucci e allora in questi casi invito il commissario a far sì che quando ci sono dei candidati, degli uomini che fanno politica è assolutamente inopportuno far sì che possa esservi l'uso, possa abbinarsi l'uso del logo. Il logo magari è affiancato al Teatro Orfeo in un'ottica di collaborazione tra Teatro Orfeo e Comune di Taranto ma vedete qui c'è attraverso il logo del Comune di Taranto una propaganda indiretta a un attore nella fattispecie che però fa politica e la fa politica in maniera attiva ufficiale. Ripeto sono delle cose assolutamente inopportune, lecite però come dire non c'è una correttezza, una linearità in questo senso e allora l'invito al commissario di andare a vedere i patrocini, gli abbinamenti, ecco se non patrocini abbinamenti che ci sono appunto tra logo del Comune di Taranto e altri soggetti ed altri eventi perché come si suol dire, caro Fabiano Marti, visto che tu sei un uomo di spettacolo, come si suol dire a Napoli a ca' nessuno è fesso, qui nessuno è fesso e allora consentimi, non ci si fa propaganda usando il logo del Comune di Taranto. Cosa lecita, per carità nulla lo vieta, però esiste anche una correttezza e di questo i cittadini in cabina elettorale terranno conto.